Dopo tre anni di essenza torna questo evento molto sentito dalla popolazione. Sì, la processione del Cristo morto è una rievocazione storica religiosa che ha più di 175 anni di tradizione. Partono nel paese gli abitanti vestiti per esempio da soldati romani, ci sono le pie donne, ci sono quattro confraternite, ci sono i bambini con i simboli della passione e c'è l'incappucciato sconosciuto che porta la croce in segno di penitenza. E alla fine c'è il catafalco che arriva con il Cristo morto, la statua del Cristo morto. Irene, chi organizza questo appuntamento e quali sono i dettagli della manifestazione? Organizza la proloco di Saltara in collaborazione con varie associazioni e enti locali, ci sono l'ACLI di Saltara, il comune di Colli al Metauro, le parrocchie San Giovanni Apostolo, la parrocchia di Santa Croce di Calcinelli, il consiglio regionale delle Marche e l'UMPLI. La partenza della manifestazione è prevista davanti alla chiesa della villa di Saltara alle ore 21.30 circa e per chi volesse è disponibile un servizio di bus navetta a partire dalle 20.30 nel bocciodromo di Calcinelli. Ci sono già tanti volontari al lavoro? Sì, quest'anno, ma come molti anni, insomma tutte le edizioni, diciamo c'è una grande partecipazione da parte di tutta la popolazione e anche molte nuove persone che hanno aderito, si è mobilitata davvero tanta gente, si sente proprio, è palpabile la voglia di rimettere in scena questo evento dopo tre anni di fermo a causa del Covid. Abbiamo la filodiffusione per il territorio, per il lungo il corteo e comunque quello che ci interessa davvero è riportare il significato di questa tradizione, quindi i genitori, gli adulti che collaborano insieme per tramandare questa tradizione ai propri figli. Grazie.